Anche questa Silver Wind e accanto Moby Dream, forse gli manca una M, ora sarebbe Moby Dream, sono due belle barchette chiamiamole, sono due belle piroscafi, trasporto passeggeri, ho girato tutto il porto, ho fatto circa 6 o 7 km per riprendere un po' tutto, io sono dalla parte opposta dove Dianzi ho ripreso, c'è lo Yachting Club, ci sono quelle meravigliose barche, eccole laggiù, si vedono bene, che ho fotografate, che ho ripreso in un altro video, siamo sempre qui, quindi siamo all'ingresso del porto di Livorno, dalla parte opposta, Dianzi ero su quella punta là, ora sono su questa punta qua, in pratica ho fatto il periplo del porto, eccoci qua, ritorno sulla Silver Wind, sarebbe vento d'argento, ma credo Wind si, dovrebbe essere vento, va bene, oggi è sabato ci sono una serie di partenze, tanto è vero che ci sono tantissime file per auto, moto, tedeschi, inglesi, eccetera, in attesa di prendere posto e di partire con qualche nave, che però per il momento non vedo all'ormeggio, la merda, la merda, vediamo, questa rispetto a quella che abbiamo visto Dianzi della MSC Sinfonia è veramente una barchetta, perché 1, 2, 3, 4, ha 4 punti, 4 punti in mezzo, per l'altra c'è una 8, 9 o giù di lì, per cui, vabbè, insomma comunque, credo sia per i percorsi che dovrà fare, perché queste navi in pratica vagano solo ed esclusivamente nel Mediterraneo, le isole della Grecia e roba del genere, insomma l'Adriatico, quindi basta così.